E' qui, mi sembrava, non dico di Biasi, ma Greg Luganis, campione olimpico. Guardate che cosa fa qui, questo è quello più difficile. E' doppio tuffo poi ancora, poi scivola ancora e si allunga, questo è conclusivo, ma l'altro era ancora più difficile, perché è anche più potente il colpo di Ivanisevic. In questo caso Ivanisevic, almeno nell'ultimo punto, Ivanisevic ha avuto la sensazione, intanto applauso, prolungato. Qui può girare la partita, anche mentalmente per Ivanisevic, ringrazio il pubblico, scusami Roberto, ringrazio il pubblico. Bravo anche questo atteggiamento, come dire, riesce a tenere il pubblico vicino a sé, no?